Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Trattoria Sportiva, io sono Mario ed è appena conclusa Pisa-Cosenza, finale 2-1, una partita a cardiopalma soprattutto nei minuti finali, quando la potevi gestire tranquillamente senza poter infartare, ma ehi, ti chiami Cosenza Calcio? Sì, e quindi la devi morire fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo centimetro della partita, sempre il novantottesimo, sempre Mazzocchi te la risolve, analizziamo la partita nel complesso, la sblocchiamo praticamente subito a sesto con Idriss Voka 42, oggi che abbiamo vinto almeno cerchiamo di trovare il lato positivo della partita, E' su una bellissima apertura da parte di Venturi che allarga verso Marras, Marras appoggia a Rispoli, Rispoli vede Voka in mezzo, appoggia al Kosovaro che la scarica in porta e il Cosenza si porta in vantaggio Fondamentalmente il Cosenza lì il primo tempo poi ha lasciato campo al Pisa, per me peggior partita del Pisa credo degli ultimi 3-4 anni, addirittura, parlo io, secondo me addirittura sotto Maran c'erano state partite migliori di questo, del Pisa E il Pisa stava portando un punto a casa, tra virgolette, per un errore di Venturi che, un errore di posizionamento hanno lasciato Masucci solo, io vorrei prendere quei 4 dietro, quei 4 dietro e prenderli a schiaffi uno a uno Perché c'erano state le avvertenze nel secondo tempo, con la parata di piede, se non erro, sempre su Beruato, un altro tiro con un salvataggio quasi all'incloce da parte di Beruato Cioè io non volevo venire qui a dire per l'ennesima volta che Cosenza è Sprecone, Cosenza è Sprecone, cioè fino all'avventacinques mi diceva la porti 1-0 in porto Dici tu vabbè, la porti 1-0 in porto e vabbè E invece? 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 Invece l'hai presa in quel posto per un tuo errore Gol di Masucci che viene da un errore tuo E poi fortunatamente con Mazzocchi c'è sempre, cioè ormai ha capito che non lo deve togliere All'avventattesimo l'ha buttato da dentro Io sono arrabbiato ragazzi, cioè Chiunque guarderà questo video, io sono abbastanza arrabbiato perché tu non ti dovevi trovare in questa situazione Alla fine della partita, non ti ci dovevi trovare perché praticamente hai giocato in 10 Dal 42esimo del primo tempo Beruato, non Beruato Barberi, giusto? E il doppio fallo Stupido, gli aveva già promesso prima il cartellino Perché ha fatto 3 falli, al terzo è scattato il rosso, doppio, doppio, giallo Io sono sempre più convinto che alcuni giovani che escono da determinati vivai Non dico che siano montati, per l'amore del cielo Però dovrebbero essere un pelino più umili Un pelino più umili Ottima la prova di Pracelic Cerco di salvare il salvabile che non me lo sarei mai aspettato Ma ho giocato abbastanza bene Buona la prova di Ivoka Col gol e nei movimenti Comunque io ho fatto un tweet Dove dicevo Aspettate se lo trovo che lo leggo Dove dicevo È entrato Viviani tipo al 90 A 12 minuti dalla fine E ho scritto Hai 12 minuti per far recuperare la partita al Pisa Ma dai Mattia, Viviani Entra e fa i danni, mi raccomando Lui non c'entrava Però il Pisa aveva segnato Mannaggia la miseria O come lo sto dicendo a 20 anni a sta parte Mannaggia i sandali di Buddha Quello che hai preso anche oggi pali Traverso, forse non mi ricordo Però hai preso pali Quello di Tutino e quanti pali siamo Siamo a due o tre pali di fila Che prende? Eh, siamo benedetti dai pali Benedetti alla signora Siamo benedetti dai pali Le occasioni che hai avute Non le hai concretizzate Forte tipo ha avuto due o tre palloni Una clamorosa sulla punizione di Calò E non l'ha spregata E poi Canotto Stessa cosa Salvataggio su Nero di Canestrella Che addirittura nel primo tempo Ha sfiorato di pareggiarsi Alla partita quindi I campanelli d'allarme Già li avevi Che la partita sarebbe stata Abbastanza tra virgolette complicata Già ti erano arrivati I campanelli d'allarme Ma tu non l'hai colti? Tu non l'hai colti? Hai voluto soffrire fino all'ultimo? Queste sono le classiche partite Da cosenza calcio Da infarto Da tifosi del cosenza calcio Da infarto Classiche Precise Cioè io non voglio togliere nulla Al Pisa Grande squadra Ma oggi Se il Pisa usciva con un punto Aquilani Secondo me Usciva da Can Baciava l'ultima La prima persona che aveva di fianco L'abbracciava e diceva Oggi ho rubato un punto A Caserta Perché anche il mister L'ha rischiato Cioè se non portavi Questa squadra Come se non portavi Tre punti a casa Oggi Oggi Succedeva la fine del mondo Per come stava andando La partita E gli è andata bene E gli è andata bene Perché oggettivamente Tutte le occasioni Che il cosenza ha creato Tu non le puoi sprecare Tu non le puoi sprecare Perché ti ritrovi sempre E dico sempre A soffrire Cioè Non impariamo mai dagli errori Cioè Io non voglio prendermela Con i singoli Per carità Però a una certa Io ho visto gente Che giochicchiava Possesso palla Vicino Ticchi tacca Ticchi tacca Chiudetele Ste cazzo di partita E non rischiate Fino alla fine Chiudetele E poi avete lasciato Masucci solo Solo Con Venturi Che ovviamente Gli ha dato due metri Ma come aveva fatto Lord Il Lord Rispoli Prima Su Beruatt Gli aveva lasciato Due metri E io lo sapevo Io lo sapevo Che nel momento Del bisogno Avrebbe fatto La minchiata Santo Mikai Che oggi Si riprende Dalla partita Con la Cremonese Santo Mikai Santissimo Mikai Che ci mette Una pezza Ai danni Che hanno fatto Gli altri Ci mette Una pezza Ai danni Che hanno fatto Gli altri Perché oggi Se poi uno Considera le occasioni Avute Il Pisa Per tu e dormite Per tu e dormite Ha avuto Due barra Eccezione del gol Ha avuto Tre palle nitide Tre palle nitide Dicevo Ha avuto Tre palle nitide Mi è arrivata Una chiamata Non so se probabilmente E' saltato un pezzo Va bene Tre palle nitide E tu stavi rischiando Di non portare Un punto a casa Stavi rischiando Di non portare Un punto a casa E vedi cosa Facendo questo Mi fermo qua Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Lasciate un like Iscrivetevi Al canale Qualora non l'aveste Ancora fatto E nulla Ci aggiungiamo Alla prossima Che sarà Con l'eco Ciao a tutti